Antonio posso chiedere a te al volo come hai vissuto tu Calciopoli senza anche dare un giudizio se vuoi di Mere o se vuoi darlo la Juventus in Serie B, la mancata difesa, insomma un po' le impressioni tue senza... Ma direi che forse è stata colpita la squadra che più si è resa disponibile ad essere colpita quindi è chiaro che io penso che comunque Calciopoli non riguardi soltanto la Juventus Sicuramente riguarda un sistema calcio che comunque non va, va oltre la Juventus, va oltre la Serie A, va oltre tutto il sistema calcio Come mai non sei dirigente di qualche squadra o della Juventus in Serie B? E' stato dirigente del Bologna? Come scusa? E' stato dirigente del Bologna, no? Io sono stato direttore generale Bologna e... Come mai non sei più... No, no, scusa, scusa, posso raccontare un episodio di Antonio dirigente del Bologna? Io ero allenatore in seconda, lui non lo sa neanche lui, ero allenatore in seconda della Juve con Trapattoni Un giorno viene nello scoletore da Trapattoni e dice vado a Bologna, faccio il direttore sportivo, una cosa o un'altra Trapattoni dice sta attento, sa Antonio il mondo del calcio è tutto diverso E Trapattoni mi disse è un bravo ragazzo, i bravi ragazzi le tre durano poco E così andò Per fargli un complimento, per fargli un complimento però Antonio ma vorresti, avresti voluto essere un dirigente della Juventus o non erano i tuoi desideri? Perché non è mai successo? Faremo una trasmissione Eri giuventino da me? Facciamo una trasmissione su questa Ma che si serve molto da dire